Il diabete. Il diabete è una condizione nascosta, un costante atto di equilibrio. 4 milioni di noi convivono con il diabete. A volte capita che se fai tutto bene, le cose continuano ad andare male. Gestire i numeri, essere pronti a tutto, paure, complicazioni, coraggio, determinazione, forza. Questo è il diabete. Nella cura del tuo diabete non sei mai solo. C'è una squadra intorno a te. Rivolgiti al tuo diabetologo. Coltiva i tuoi sogni. Il mondo del calcio è con te. Mettiamo in fuorigioco il diabete.